con la mobilità straordinaria che sta mettendo in luce tutte le sue criticità, come noi avevamo detto, perché noi le abbiamo dette tutte queste cose. Ci sono i nostri emendamenti alla buona scuola, e sono stati fatti dialogicamente ovviamente, ci sono i nostri interventi. Noi ve le avevamo dette tutte queste cose, ma non per fare un'opposizione sterile e barricadera, ma proprio per indurre a fare un percorso utile per i nostri ragazzi, per le nostre ragazze, per le nostre scuole e per le nostre istituzioni scolastiche. Ora i nodi sono al pettine, vedremo come sarà il prossimo anno scolastico. Grazie, collega Centemero. Passiamo all'interrogazione numero 32259 del deputato Losacco, concernente misure per prevenire episodi di violenza nei confronti dei bambini in ambito scolastico, anche valutando l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Il sottosegretario per l'istruzione dell'Università della Ricerca, Gabriele Toccafondi, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie, Presidente. Si assicura che l'argomento rappresentato dall'onorevole interrogante è all'attenzione di questo Ministero, tant'è che l'amministrazione scolastica è solita attivare tutte le verifiche rispetto a segnalazioni che possono arrivare tanto dai dirigenti scolastici quanto dalle stesse famiglie che dispongono di una serie di opportunità di dialogo con l'amministrazione scolastica. Ciò ha già consentito e consente al MIUR di poter intervenire direttamente attraverso lo strumento delle visite ispettive, ovvero con diverse azioni a supporto delle istituzioni scolastiche e sedi di tale deprecati episodi. Si ricorda inoltre che in relazione alla tutela sia fisica che morale dei bambini rilevano a carico di chi commetta abusi, oltre ai profili di responsabilità penale e civile, anche profili di responsabilità disciplinare. Il MIUR, con circolare 88 del 2010, ha diramato puntuali indicazioni sull'applicazione al personale scolastico delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Legislativo 150 del 2009. Più in generale, a seconda della gravità dei fatti, la disciplina...